Iscriviti ai canali Blue Voice Live e rubrica dialoghi di Claudia Marcelli. Apprezzi i contenuti e vuoi sostenermi? Puoi farlo con un piccolo gesto, abbonati e potrai vedere video senza interruzioni pubblicitarie. Buona visione! Guardiamo il video e scopriamo le caratteristiche del denario. Papius ci indica anche uno schema dei quadrati dei dieci primi numeri. Ora entreremo nel clou del suo testo La scienza dei numeri con il prossimo capitolo dal titolo Costituzione dei numeri.